Altra inchiesta di rinvio a giudizio per Rosario Crocetta, l'ex presidente della regione accusato su vari fronti giudiziari. In questo caso l'inchiesta è quella per traffico illecito di rifiuti. Siamo a Melilli nel 2016. La Cisma chiede l'autorizzazione per un impianto di trattamento di rifiuti indifferenziati e per la successiva stabilizzazione organica. In pochi giorni Crocetta dice sì, i rifiuti vengono abbancati nella discarica che però fino a quel momento era autorizzata solo a ricevere quelli speciali. E in attesa del trattamento meccanico-biologico Crocetta concede una deroga tre volte superiore il limite massimo dell'indice respirometrico. Cosa c'è dietro questi che potrebbero sembrare errori grossolani o sviste clamorose? Se lo chiedono i magistrati che hanno focalizzato il costo per la regione di questo abuso, 3.626.000 euro e il prezzo pagato all'impresa per il conferimento in discarica di 34.000 tonnellate di rifiuti che avrebbero dovuto seguire altre strade. Imputate insieme a Crocetta 12 persone, tra le quali l'ex direttore generale del Dipartimento rifiuti Maurizio Pirillo, il funzionario regionale Maurizio Verace, sempre in servizio nonostante precedenti anche più gravi. Coinvolti anche gli ex vertici dell'impresa, oggi in amministrazione giudiziaria, Antonino e Carmelo Paratore, arrestati lo scorso anno in un'inchiesta per un sistema di connivenza tra Cosa Nostra e pubblici funzionari. Ma l'accusa di traffico illecito di rifiuti a Crocetta giunge anche da un'altra inchiesta, quella sull'Oicos e sulle discariche di Mister Bianco e Motta Sant'Anastasia. Il questo caso Crocetta è in compagnia dei tre commissari prefettizi che portarono avanti l'azienda ritenuta in odor di mafia, con tanto di polemiche sui loro compensi.